L'avvocato Massimiliano Di Cuia è candidato al Consiglio regionale pugliese con Forza Italia a sostegno del candidato presidente Raffaele Fitto. È il momento dell'appello al voto. Perché barrare il simbolo di Forza Italia e scrivere accanto Di Cuia? Io invito i cittadini di Taranto e gli elettori di Taranto e della sua provincia a votare anzitutto il candidato di centrodestra e la coalizione che lo sostiene perché è importante dare assoluta discontinuità rispetto agli ultimi cinque anni di governo emiliano. Negli ultimi cinque anni la regione è stata un ostacolo per Taranto, non è stata un'alleata della nostra provincia e noi abbiamo messo in campo come centrodestra e con Raffaele Fitto una proposta programmatica e politica assolutamente in discontinuità con questi ultimi cinque anni. Siamo su tutti i temi all'antitesi e su posizioni assolutamente differenti da quelle sostenute e portate avanti in questi anni di emiliano e quindi credo che sia fondamentale ottenere discontinuità rispetto a questi anni. Votare Massimiliano Di Cuia perché anzitutto credo che sia importante che in Consiglio regionale siedano persone competenti. Io credo che il tema della competenza vada un attimo rivalorizzato e messo al centro del dibattito politico. Ricordiamoci che i consigli regionali sono dei legislatori, vanno a legiferare. Io credo che il tema della cultura e della competenza debba essere assolutamente rilevante nella scelta del voto. E poi perché credo che bisogna assolutamente puntare sul rinnovamento della classe politica. Credo che la mia generazione, quella dei quarantenni, debba rivestire un ruolo più centrale nella vita pubblica. Non possiamo stare a guardare, dobbiamo prendere in mano le sorti della nostra città e della nostra provincia e lo dobbiamo fare perché qui abbiamo scelto di vivere, di lavorare, di far crescere i nostri figli. E quindi il mio appello è rivolto anche e segnatamente e specificatamente soprattutto a quella generazione di persone perché credo che insieme potremo contribuire alla rinascita della nostra città, della nostra provincia. Soprattutto fare in modo che Taranto diventi terra di opportunità e non più terra di delusioni, terra di allontanamento dei figli ma noi dobbiamo fare in modo, dobbiamo costruire insieme i presupposti perché i giovani del futuro possono rimanere a Taranto e vivere qui la loro vita privata e lavorativa.